Mi preoccuparsi per l'amore del popolo affanato, ma questo vino sa di tappo, come viene a tuo champagne? Amici di Viavai TV Online, 18 febbraio 2011. Siamo al Teatro Astra di Schio in occasione del concerto gratuito che Luca Bassanese offrirà per la giornata del risparmio energetico Mi Illumino di Meno. Luca Bassanese è un volto molto noto della musica, dell'arte, dello spettacolo, un cantastorie, come è stato spesse volte nominato, e tra i più importanti nuovi esponenti della scena folk popolare italiana, ma soprattutto un artista che coglie a ricerca la bellezza della natura umana profonda. Buonasera Luca e grazie di essere qui con noi ospite di Viavai TV Online. Luca ti chiedo, prendendo un po' spunto da quello che è il titolo del tuo spettacolo, qual è il futuro di questo mondo? Io mi auguro che il futuro del mondo sia soprattutto un futuro delle nuove generazioni, di generazioni che stanno nascendo, e a queste generazioni noi dobbiamo in qualche maniera lasciare un'eredità importante, e non soltanto superficialità e materialità. E allora, quindi, da questo io ti chiedo forse una domanda fin troppo facile. Qual è, secondo il tuo punto di vista, la situazione adesso in Italia, stante un po' la deriva culturale che dobbiamo un po' subire e vedere? La situazione, se si dovesse essere pessimisti, direi che è terrificante, però quando si è arrivati molto in basso, qualcuno sostiene che si può iniziare a scavare ancora, però penso che oramai si è scavato molto. Quindi ci vuole uno slancio, uno slancio di coraggio, e questo coraggio l'abbiamo potuto vedere anche da molte donne domenica scorsa, che sono scese in piazza per la dignità, per la dignità, per gridare comunque un nuovo mondo è possibile. Infatti, allora il tuo prossimo spettacolo so che si intitolerà Un nuovo mondo è possibile, e nella presentazione che ho visto in internet, c'è una frase molto bella in cui, appunto, cito testualmente, si dice che l'acqua, la terra, l'aria, la conoscenza, la salute e la dignità non sono merci ma beni comuni. È così? È possibile che tutto ciò diventi realtà? Diciamo che tutto ciò lo è. Speriamo che non diventi il contrario, nel senso che comunque l'acqua è indubbiamente un diritto fondamentale per l'uomo. Quindi iniziare ad intaccare quelli che sono i diritti fondamentali, pensare di rendere, di privatizzare qualcosa che appartiene all'intera umanità è un gesto di estrema arroganza. Quindi su questi punti bisogna oggi lottare molto per fare in modo appunto che qualche pazzo non metta le mani su dei beni che sono di tutti e che sono di vitale importanza. Infatti, Luca è un artista che si dona molto per cause come quella dell'acqua, appunto seguendo anche su Facebook la sua pagina, si può vedere quanto sia l'impegno che lui ci mette. E anche questa sera con questo concerto gratuito credo che tu voglia dire qualcosa anche in questo senso. Quindi anche l'arte può contribuire ad aiutare, insomma ad aprire un po' le coscienze delle persone. Io credo che la responsabilità di ogni persona che lavora nel mondo della cultura sia quello di creare culture, quindi di far fare in qualche maniera dei percorsi, prima a se stessi e poi di conseguenza agli altri. E raccontare agli altri ciò che vogliono sentirsi dire è semplicemente creare del puro e mero intrattenimento. Quindi credo che la cosa fondamentale per me sia quella di scavare, di cercare nel mondo che mi circonda storie vissute, storie di vita vera e nello stesso tempo anche seguire quelli che sono i momenti storici. La cosa importante è raccontare la storia, raccontare la storia perché diventi memoria e possa essere trasportata nei secoli. E questo è compito soprattutto di chi fa arte, spettacolo e culture. Certamente. Volevo chiedere a Luca anche un'altra cosa, perché lui è un artista del nostro territorio, del nostro territorio veneto. Però lui riesce a unire diversi stili, tra cui la musica balcanica, la musica folcloristica. Da dove nasce l'ispirazione per questo tuo modo di fare spettacolo, così teatrale, così contaminato con tanti altri generi? È comunque un percorso di vita che assieme a Stefano Florio ho intrapreso ancora dal 2003-2004, che mi ha portato oggi a fare ciò che faccio, ad esprimermi in questa maniera. Penso che sia lo sposalizio tra le arti, quindi tra la musica, il teatro, la parola, la poesia, sia qualcosa di, per me, fondamentale nella mia vita e quindi di conseguenza unirli crea una sorta di magia nella quale mi trovo benissimo, nella quale in questa magia mi piace naufragare. Ok. Luca, adesso vuoi dirci quali sono le tue prossime date future e dove si può appunto venire ad ascoltarti? I prossimi appuntamenti saranno la settimana prossima all'interno di alcuni istituti scolastici. Sono stato invitato la settimana prossima, mi hanno chiamato qualche giorno fa per l'Istituto Quadri. Liceo e lo stesso giorno andrò a Padova, invece, all'Istituto Liceo Scientifico Fermi. Poi altri appuntamenti saranno appunto il 2 aprile, la prima di Un Nuovo Mondo è possibile, assieme a Domenico Finiguerra, per la regia di Stefano Florio. Questo spettacolo nel quale cercheremo di raccontare la bellezza che c'è di molte persone che nel territorio sia italiano ma anche all'estero cercano di costruire un nuovo mondo. Bene, grazie Luca Bassanese e buon concerto per questa sera. Grazie a voi, un abbraccio, a presto.